Indirittura d'arrivo il Master Plan per il Sud, la linea guida del documento che riguarda l'Abruzzo, illustrata stamane ai sindacati in un incontro con la Regione, lunedì vertice anche a Roma. Mariano D'Amico. Si lavora gli ultimi ritocchi del Master Plan per il Sud. Il governatore Luciano D'Alfonso sta mettendo a punto il documento, che sarà sottoscritto entro la fine del mese dal Premier Renzi, in costante contatto con i vertici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi D'Alfonso ha incontrato i sindacati ai quali ha illustrato le linee guida del provvedimento. Il segretario regionale della CGL, Sandro Del Fattore. Verificheremo la corrispondenza tra i progetti che ci sono stati presentati questa mattina e le proposte che CGL e Cislewil hanno già portato qui alla Regione da diverse settimane. Naturalmente la nostra valutazione è legata al tema di fondo. Quanto questi progetti incideranno sull'occupazione, sullo sviluppo, su una nuova qualità della crescita nella Regione. La concreta possibilità di successo del Master Plan, considerato un'imperdibile occasione di sviluppo per la Regione, è strettamente connesso alla capacità di proporre interventi in grado di veicolare le risorse pubbliche italiane ed europee, realmente cantierabili entro il 2016, in un quadro di gestione coordinata del territorio. Roberto Campo, segretario regionale della UIL. Sarà importante fare un lavoro serio sulle infrastrutture, sia per quanto riguarda la ferrovia, che per quanto riguarda le strade, i porti e anche la depurazione dei fiumi, delle acque. E su questo credo che il lavoro sia abbastanza avanzato. Ci auguriamo che si riesca a fare anche qualche cosa di aggiuntivo come Abruzzo per abbattere la fiscalità di svantaggio, ridurre le tasse a cittadini e imprese. Grazie. 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 Grazie.